No che non siete caldi, ehi, buongiorno qua davanti principessa, parla pure, fingi di non sentirmi, come stai, come va? Fai con calma, ciao, sono almeno tre minuti da questo momento che ti sto prendendo in giro, ciao, ti sei accorta che c'è qualcuno al microfono, come va? Tutto bene, ragazzo? Come diamine hai fatto, lei è molto al di sopra delle tue possibilità, molto al di sopra. Allora, buonasera a tutti, no, non vi preoccupate, vi sto prendendo un po' in giro perché questo è il tipo di comicità. Ehi, là in fondo, buon compleanno, eh? Lascia che mi spieghi, ti sto dicendo questo buon compleanno per attirare la tua attenzione verso di me, ma in realtà di te non me ne frega niente, non so se mi sono inteso, ho bisogno di attenzione perché sono megalomane, ok? Ciao, buonasera signori, allora, mio Dio come fischia sto coso, mi metto qua. Allora, quanti di voi sanno che cos'è la stand-up comedy? Tavolino? C'è tipo il deserto, c'è il molise lì in fondo, non c'è niente là in fondo. Bene, siccome io non ho tutta questa grande voglia di spiegarvela nel dettaglio, abbiamo preparato questa piccola introduzione che sono proprio cinque minuti di chiacchiera. Quindi, che ne dite? Chiacchieriamo insieme? Sì! Questo è l'entusiasmo proprio, chiacchieriamo insieme? Sì! Allora, parliamo degli esopianeti. Quanti sono piaciuti gli esopianeti? Grande scoperta gli esopianeti. Gli esopianeti hanno fatto esplodere di gioia il mondo intero. Tutti gli astronomi, tutti i fisiologi, tutti gli scienziati, gli sono esplose le palle per quanto erano gioiosi per la scoperta degli esopianeti. E il web è stato completamente invaso da commenti di gioia, commenti di gioia di persone che erano felici di questa scoperta, della possibilità di avere un mondo raggiungibile e abitabile. Per esempio, come? Mi dai l'immagine? L'immagine? Come il commento di Simone, di cui non c'è l'immagine. Va bene, sarò costretto a leggervi il commento di Simone. Sentite quanta gioia nel commento di Simone. E quindi? Ne state scoprendo molti? Quindi? A che serve mandare fondi per la ricerca di pianeti nuovo? Scoprite il modo di non lasciare questo. Scoprite il modo per far mangiare tutte le persone che ancora nel 2016 muoiono di fame. Far arrivare acqua nei villaggi in Africa permette a tutti un lavoro per realizzarsi. Di pianeti ne potete scopri quanti ne volete poi. Non lo sto facendo io sgrammaticato, l'ho trovato proprio scritto così. Questa meraviglia del creato, puoi venire a leggere per controllare se sto dicendo il vero? È proprio scritto male. No, 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 non ti alzare, non ti voglio qua vicino. Allora, io mi sono detto di fronte a tanta saggezza che Simone ha ragione, ha perfettamente ragione. Perché spendere soldi nella ricerca spaziale quando abbiamo le persone che muoiono di fame, l'economia che sta dando a rotoli, l'Africa che deve essere risollevata? Perciò io dico togliamo soldi alla ricerca spaziale e diamoli all'Africa. E non solo. Perché fermarci alla ricerca spaziale? Perché non togliere soldi ad altre associazioni a cui andrebbero tolti? Quei soldi possono essere usati per scopi migliori. Io dico che per un mondo migliore bisognerebbe togliere i fondi alla Donald Trump Foundation. Non credo di dovervi spiegare perché andare a togliere soldi alla Donald Trump Foundation. I Pink Floyd l'hanno fatto molto meglio di me. Another break in the wall. Dalle casse di Stato degli Stati Uniti d'America, perché se leggete un Presidente come quello, eh no. Non vedo nessuno che protesta per il fatto che noi abbiamo avuto Berlusconi. E fate bene. Quando Berlusconi è salito al potere io non avevo diritto di voto, quindi io posso lamentarmi, voi no. Il corpo forestale dello Stato. Non tutto, solo quello barese. Dove cazzo stanno le foreste a Bari? La pineta di San Francesco? Le associazioni calcistiche? Tutte, tutte. 200.000 euro per correre dietro a un pallone, sono veramente troppi. E in più odio il calcio. La Michael J. Fox Foundation per la ricerca contro il Parkinson. Michael J. Fox, sapete chi è? Il protagonista di Ritorno al Futuro? Avete visto Ritorno al Futuro? No, non vi è chiaro il concetto. Se non avete visto Ritorno al Futuro, la porta è da quella parte e ci andate correndo. Sono in grado di togliermi la scarpa e tirarvela in fronte. Ok, Michael J. Fox in Ritorno al Futuro. Bellissimo quando suona la chitarra. Quella cosa è registrata. Michael J. Fox la chitarra non la sapeva suonare prima del Parkinson. Quindi togliamo i fondi alla Michael J. Fox contro il Parkinson. Al centro di ricerca contro l'Alzheimer e la demenza senile. Non ho niente contro quei poveretti. È solo che ho pensato sarebbe un colpo facile facile. Non se ne accorgerebbero nemmeno o non se lo ricorderebbero. Gli ospedali. Dobbiamo togliere soldi agli ospedali perché dovete tutti morire prima o poi. Il sistema scolastico. Se sforna coglioni come Simone è il caso di togliere qualcosa. Allora, a parte questo deserto, questa totale mancanza di risate che ci piace, avete capito dove era l'ironia nella mia lista? Mi sono immedesimato in Simone, ho scritto una lista come se fosse un ignorante e ho usato luoghi comuni, cose sbagliate da dire. Questo perché vi voglio far trovare il nocciolo della questione. Il problema non è dove vanno i soldi, cioè se alla ricerca spaziale, in Africa o chi che sia. Il problema è l'ignoranza di persone come Simone, che scrivono commenti del cazzo. Ora, per risolvere il problema, l'ignoranza di Simone, di persone come Simone, io ho tre proposte. Uno, ignorare gli ignoranti, non meritano la nostra attenzione. Due, sensibilizzare gli ignoranti, fare campagne, manifestazioni, incontri culturali, seminari, insomma far capire agli ignoranti l'importanza della ricerca scientifica. Tre, radunare tutti gli ignoranti, sedare tutti gli ignoranti, prendere tutti gli ignoranti e buttarli nell'arena del Colosseo, chiudere i cancelli del Colosseo, dare agli ignoranti spade, gladi, scudi, tridenti, lance, reti da pesca, quello che è, mettere delle telecamere intorno al Colosseo e riprendere la più grande battle royale tra ignoranti della storia, mandare tutto in mondo visione e guadagnare un sacco di like. E quando alla fine in una montagna di ignoranti, il più ignorante di tutti si sollevere atti l'onfante, andremo noi con un lanciafiamme e avremo risolto il problema degli ignoranti. È il problema del calcio, perché se devo decidere quale massacro vedere in un anfiteatro, la battle royale ha più sangue. Se non avete capito la battuta, calciatori fa rima con gladiatori. Ok, guarda quanta tristezza, niente, qui mi stanno cacando e là è proprio buon compleanno a te. Detto questo, questi cinque minuti servivano per farvi comprendere che noi prendiamo in giro tutto. Cioè, se avete una nonna malata di Parkinson, non fatele suonare il violino, non ci fermiamo nel dire cose cattive. Ok? Quindi, due sono le possibilità. O fermo qua l'introduzione e voi ordinate cibo, oppure, giusto per riempire questo attimo di tempo in cui finalmente vi vedo attenti, vi sparo battute a caso. Cosa preferite? Vogliamo un po' di attività, ragazzi? Su, su. La tua birra non è ancora finita, quindi sei lucido. Su. Battute a caso, battute a caso, uno. Battute a caso, due. Battute a caso, se sono divertenti. Quante battute a caso vogliamo in questa sala? Battute a caso, bandiamo, come se me ne fregasse qualcosa della vostra opinione. Olè! Ok, si è applauditi al fatto che si è rotto un bicchiere e siete delle idioti, proprio delle teste di cazzo emerite. Quello significa che quel poveraccio dovrà mettersi, spazzare, togliere, siete delle persone meschine. E mi piace! Dunque, battute a caso. Se le ciglia devono proteggere i nostri occhi dai corpi esterni, com'è che i corpi esterni che più frequentemente entrano negli occhi sono le ciglia? Queste risatine giusto accennate, questa battuta serve per mettervi proprio di fronte all'argomento imperfezioni del corpo umano, che è un argomento dibattuto da tutti gli scienziati. I fisiologi pensano che il corpo umano sia una macchina perfetta, i medici pensano che sia un bancomat. Ho provato a chiedere alle infermiere la loro opinione circa la questione imperfezione del corpo umano, non ne ho trovata neanche una. Erano tutti negli sgabuzzini a scoparsi i medici. Non ci sono infermiere, che peccato! No, no, non è vero, non è vero, le infermiere non si scopano i medici. Questa è un'altra battuta su un luogo comune, cioè generato dall'ignoranza. Le infermiere non si scopano i medici, si scopano i pazienti. Devono pur dare sollievo a quei poveracci, no? Il posto peggiore dove ho detto quest'ultima battuta è stato l'ospedale pediatrico. Il posto migliore dove ho detto questa battuta è stato il reparto di geriatria. Volavano cateteri, il banco fosse una festa di laurea. Questa cena ci tromba! Se le ragazze si vestono da puttane, come fanno le puttane a far capire di essere puttane? Da cosa si vestono? Da ragazze? Bellissima questa battuta fresca fresca, proprio sotto l'otto. Non si vestono, carina questa qui. Carina però, la questione è che la battuta l'ho fatta proprio in memoria della giornata della donna. E a proposito, voglio provare a stendere questo rametto di mimosa. Ho preparato per voi una battuta sulle virazioni. Ora, non so quale rapporto voi abbiate con le battute delle virazioni, ma io ho una storia di vita vissuta. Quanti hanno visto Django Unchained? Al cinema. Al cinema, al cinema, al cinema, al cinema, al cinema. Bene, la scena in cui Walter Goggins, con un coltello rovente, tiene le palle di Jamie Foxx ed è pronto a staccargliele. Ce l'avete presente? Bene, se facevate attenzione a quello che vi circondava nella sala, due rumori potevate sentire. I maschi e le ragazze. Poi c'era qualcuna, più sadica in fondo alla sala, vicino all'uscita di emergenza, che faceva «Sì, cazzo! Staccargliele! Staccargliele! Togli quelle palle di merda a questo maschio, cazzo! Staccargliele!» Era sicuramente una lesbica quella in fondo alla sala. Quindi, detto questo, avete capito? Noi non vi risparmiamo. Dieci minuti, tanti minuti, quelli che vi servono per prendere la vostra birra o il vostro liquore più pesante possibile, per ridere di più e ci vediamo tra un po'. Ah, dimenticavo di dirvi, chi è d'accordo con la risposta numero uno, ignorare gli ignoranti? Uno. Chi è d'accordo con la risposta sensibilizzare gli ignoranti? Sensibilizzare gli ignoranti? Nessuno. Chi è d'accordo con la risposta numero tre, chiuderli e batter royale? Eccoli là. Allora, se avete risposto risposta uno, avete il mio rispetto. Se avete risposto due, cioè sensibilizzare gli ignoranti, quanti sono d'accordo per sensibilizzare gli ignoranti? Non fatemi fare il pezzo da solo, voglio vedere più mani, ok? Voi siete come il rotolo di cartone al centro della carta igienica, una delusione. Apparite quando non servite a un cazzo e ci dimentichiamo sempre di sbarazzarci di voi, sempre. Voi che invece avete le mani alzate per la risposta numero tre, tenetele perché finisco l'introduzione, vi invito a prendere cibo, birra, coca cola o acqua minerale se avete qualcosa da nascondere e ci vediamo tra dieci minuti con il pezzo davvero grande, davvero grande. Grazie. ...di avvertire le persone che sono all'esterno a fumare di entrare per godersi lo spettacolo. Buonasera, benvenuti a Mordace, spettacolo di stand-up comedy vietato ai minori di 18 anni. Prima di iniziare vorremmo spiegarvi che cos'è per noi la stand-up comedy. Pensieri in libertà, condivisione di ansie e paure, sborra, la mossa a Kansas City, slevi in patto criminale, essere come un nero che ti incula di notte, indelicato. La stand-up comedy è un format tipicamente americano che noi vi riproponiamo qui stasera, sono due monologhi scritti da noi completamente inediti. Prima di cominciare però ci teniamo a precisare un paio di cose. Se pensate che questa sera vedrete una serata di cabaret dove spegnere il cervello e sentire tante imitazioni e vocine stupide, la porta è da quella parte. Se avete intenzione di tenere il telefonino acceso durante la durata dello spettacolo, mettetelo almeno in silenzioso perché rompe davvero davvero il cazzo. Se avete meno di 18 anni, la porta è da quella parte. Se pensate che la vita finirà con un sorriso, la porta è da quella parte. Noi non siamo due comici professionisti, ma se pensate di essere più bravi di noi, la porta è da quella parte. Se pensate che la vostra opinione, il fatto che vi sentate offesi o feriti in qualche modo dalle cose che vi diremo ci importi qualcosa, la porta è da quella parte. Se invece siete qui perché vi volete divertire, buonasera, benvenuti a Mordace. A me la presentazione del primo comico, il nano da giardino nobile, signore e signori. Dalla discarica più vicina, per voi l'orgoglio e il vanto del terzo mondo, Domenico Indiveri! L'arte, l'arte. L'arte. L'arte, l'arte, l'arte. Oh, l'arte. Oh no, l'arte. Quella così. Ma non sentite che già questa magnifica e eloquente parola svela il mistero che essa c'è la l'arte, in inglese the art, in francese l'ol, in spagnolo l'arte, in portoghese arci e in latino ars, come il fuoco che brucia della passione. E in greco, madre di tutte le culture, tecne. Ma che cazzo? L'arte. Che cos'è l'arte? Chi può dire in modo netto e preciso che cosa sia l'arte? Potete dare una definizione della chimica, della fisica, della filosofia, ma... dell'arte? Chiedete a Pietro Arretino ed egli vi dirà l'arte è una nativa considerazione dell'eccellenza della natura che ci portiamo sin dalle fasce. Chiedete a Seneca ed egli vi dirà che tutta l'arte è imitazione della natura. Chiedete a Goethe ed egli vi dirà che l'arte ci rende immortali. Chiedete a Tolstoi ed egli vi dirà che l'arte è la suprema manifestazione della potenza dell'uomo. Essa è concessa a pochi eletti ed eleva l'eletto ad un'altezza alla quale è difficile mantenere la sanità mentale dove l'uomo comune soffrirebbe di vertigini in l'arte. E se lo chiedete a me, l'arte è la luce nel buio della monotonia. Una maniera edul colorata per dire che io senza l'arte mi rompo il cazzo. Sì, conduco una vita miserabile e se non avessi l'arte a cui pensare mi sparerei in bocca con un fucile. Mi chiedo se Kurt Cobain non avesse voluto fare l'università. Ebbene, l'arte. Come ho già detto, l'arte ha avuto molte definizioni ma nessuna mai precisa, corretta, ben definita. L'arte in realtà non è tanto quel che è ad essere un mistero, ma dell'arte il vero mistero è a cosa serve. Ebbene, se almeno una volta nella vostra vita avete detto l'arte è inutile, l'arte non serve a niente, l'arte effimera posso dire in maniera certa che il vostro cervello è pieno di merda. Ma non vi preoccupate, sono qui stasera per voi, per spalare tutto ciò e riempire il vostro cranio con della dorata avena per cavalli. Potrete chiamarmi stalliere. Ebbene, partiamo dal principio. Alphonse Mucha, pittore, scultore e poeta, scrisse che l'arte esiste solo per comunicare un messaggio spirituale. E da un certo punto di vista cadevano dall'alto dei cieli robe. E da un certo punto di vista aveva ragione. L'arte è nata per comunicare, è stata la prima forma di comunicazione in assoluto. Quando l'uomo delle caverne non sapeva ancora parlare, quando per esprimersi doveva usare suoni cavernicoli tipo Uga, 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 Uga. Ebbene, l'uomo conduceva una vita noiosa, scandita dai soliti momenti di caccia nanna, caccia nanna, caccia nanna, caccia nanna, caccia nanna. Posso andare avanti tutta la serata se ve lo state chiedendo? Caccia nanna, caccia nanna, caccia nanna, caccia nanna, caccia. Sesso nanna. Il sesso allora non era come lo vediamo noi adesso, non era un'alta forma di relazione, una forma d'affetto in una coppia o semplice divertentismo del sabato sera, no. Il sesso era primitivo, primordiale e consisteva nei testicoli dell'uomo che battevano nel suo istinto come un tamburo. Uga? Uga? Uga, 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 uga. E appena annassava l'odore della femmina? UGA! Wuhuu! Bando di carne! Ma a quell'epoca l'arte della cosmesi ancora non era nata, di conseguenza l'uomo prima di arrivare alla vagina doveva attraversare questa foresta pluviale, questa giungla tra gocce di piscio, tarzanelli, liquido mestruale incrostato, liquidi vaginali, uno schifo. Questo, signore miei cari, serve a spiegarvi perché vi dovete sempre depilare là sotto, non sono le gambe pelose a farci schifo, ma quello che potremmo trovarci in mezzo. Fidatevi dell'uomo col culo peloso, è come un panettone, a nessuno piace trovarci l'uvetta passa. Ebbene, a quell'epoca l'uomo per depilare la donna, l'unico arnese a sua disposizione erano pietre taglienti appuntite. A quel punto il sangue che incontravi non capivi più se era mestruale o dovuto a ferite da taglio, ma la grande rivoluzione arrivò con la pietra levigata. Con quella potevi sì tagliare il pelo della donna e darle un po' di sollievo se proprio le facevi tanto male. E se la pietra levigata che trovavi era abbastanza lunga e grossa, potevi mentire sulle tue dimensioni per aumentare la tua fama tra le cavernicole. Il primo dildo della storia. Ebbene, in questa vita stantia di stenti e istinti, l'uomo sentì il bisogno di dover cambiare qualcosa. Aveva la necessità di comunicare con i suoi simili. Anche perché in molti cadevano durante le battute di caccia perché non sapevano dire la semplice frase Attento al mammut, Uga. Ebbene, l'uomo sentì questo suo bisogno impellente di trovare la sua vita vincente, di raccontarla, di registrarla. In altre parole, l'uomo aveva bisogno di divertirsi. L'uomo delle caverne si era rotto il cazzo. Si era rotto il cazzo di stare seduto in cerchio davanti al fuoco tutte le notti. E io non capisco perché questa cosa gli scout non ci siano ancora arrivati a capirla. Ebbene, nacque così la più antica forma d'arte della storia, la pittura rupestre. Un'arte semplice, primitiva, omini stilizzati che davano la caccia ad una figura cornuta. Ebbene, quando il nostro artista, che chiameremo Ugo, mostrò il disegno ai suoi amici cavernicoli, loro gli fecero notare che il numero di omini stilizzati non era pari a quello dei cavernicoli. E quindi, grazie all'arte, nacque la matematica. Ugo, gue, gue, guaggo, kingue, guei, gegge, oggo, goge e ghiegi. Questi dieci eroi della nostra epica storia. La poesia nasce per lo stesso motivo. I poeti si erano rotti il cazzo. Si erano rotti il cazzo perché non riuscivano ad andare dalle donne da loro amate e dire loro quanto le amassero. In altre parole, non trovavano la maniera più giusta per esprimere i loro sentimenti. Anche perché dovevano fronteggiare un luogo comune, oscuro, mediovale, antico, secondo il quale gli uomini volessero soltanto scoparsi le donne. Un luogo comune, oscuro e mediovale che ci siamo lasciati alle spalle. Sono cambiati i tempi da allora. Pensate a Dante, Dante Alighieri, il sommo poeta, che si era rotto il cazzo di stare ad una navata di distanza dalla bella Beatrice, la quale non si degnava neanche di voltare lo sguardo, la Troia. E così lui, nel silenzio della chiesa, timidamente si avvicinava alle amiche di lei che le facevano da schermo e gli rivolgeva la parola sommessamente. Chiedo Venia, mie signore, non trovo l'ardir di richiamare l'attenzione della Madonna a voi seduta accanto. Sareste tanto gentili e tanto oneste da indicarle la mia direzione? Avete presente quando due ragazze si guardano e senza dirsi niente ridono? Oh mio Dio, Clemmy, ma tu l'hai visto questo qua quanto è brutto? No, vabbè, sto male. E la baby dovrebbe farselo con questo qua, cioè, quel naso sembra che ci debba prendere il satellitare. Ah, no, vabbè, lo sbarione. No, non se ne parla. E la baby dovrebbe farselo... No, 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 c'hai proprio ragione, è onesto. No, proprio no. Il burro sciolto, XD. In quel momento Dante avrà pensato la frase che ogni uomo dice di fronte ad una scena come quella. Esiste un girone dell'inferno per quelle come voi, lo sapete? Ma Dante non si diede per vinto. Dante si rimboccò le maniche e diede vita alla più bella opera di amore mai stata scritta. Una raccolta di poesie tutte dedicate a Beatrice, rendendola così la donna più amata di sempre. Lui le scrisse, le riscrisse, le vide, le rivide, le corresse, le fece vedere i suoi amici. I suoi amici gli chiesero spiegazioni e lui scrisse le spiegazioni direttamente nell'opera. Le rilegò, le presentò, le pubblicò e finalmente, dopo aver trovato le parole più adatte per rivolgersi a lei, dopo aver finalmente dato voce ai suoi sentimenti, la Troia muore! Lui si è massacrato da quando aveva nove anni, si è innamorato di lei scrivendo rime concatenate del mio cazzo concatenato e la Troia non resiste quell'anno che le serve per leggersi la vita nuova? Ma vaffanculo brutta stronza del cazzo! Chissà se sapevi manco leggere! Beatrice è la più amata delle italiane! Beatrice è la meretrice! Ti dovrebbero chiamare! Stronza! Stronza! L'arte ha avuto molte altre funzioni nel corso della nostra storia, ha dato origine a rivoluzioni, proteste, ha dato immagini, ha dato voce a tutti questi movimenti. Breton e Trotsky scrissero la vera arte non può non essere rivoluzionaria, che cos'è una rivoluzione, signori miei, se non la massima rottura di cazzo. Pensate agli impressionisti, gli impressionisti poeti per eccellenza, coloro i quali portarono la rivoluzione nell'arte pittorica, tutti insieme fecero fronte comune per affrontare questo temibile nemico, l'arte che reclama il suo ruolo sacro contro la moda, contro la tecnologia. Tutti insieme sfidarono il daguerrotipo, l'antenato della fotografia, brutte merde e ignoranti. Ebbene, gli artisti andarono dai loro committenti e dissero che c'è? Preferisci il daguerrotipo? Vuoi che ti faccia quadri in meno di mezz'ora? E sia, tu pagami e li avrai. E' finito il pagamento, corri all'arte lì e prendi il cavalletto, prendi la tela, prendi i colori e corri fuori dalla città, trovare un bel paesaggio, oh questo è carino, monta il cavalletto, monta la tela, prepara i colori, cazzo, la modella, mi sono dimenticato la modella, tu, tu col vestito bianco, sì tu, vieni qui, ferma lì, ti dipingo, ferma lì, ti dipingo, andiamo, ok facciamo la carbonella di questa stronza, ok, ok carbonella, andiamo tutti, carbonella, linea dell'orizzontale, no, 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 il tramonto mi cambia tutti i colori, non ho tempo per la carbonella, via con i colori, ok andiamo, i fili d'erba, non li faccio nel dettaglio, li faccio tutte a linea, tutte linea, 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 e devo fare i fiorellini, puntini, ma sì, i fiorellini a puntini, facciamo il cielo, il cielo non ho tempo, due pennelli, tre pennelli, e facciamo le nuvole, facciamo le nuvole, le sfumiamo con le dita, ok così, ma ogni santa cazzo di volta, ok, facciamo la troia, no, no, il vento no, mi cambia la direzione delle cose, ferma tu, non me ne importa niente, che ti si vedono le mutande, resta lì, ne importa poco, dipingo pure quelle, ferma, carina questa cosa, che il vento muove la gonna, fattine, mi dici, te al quadro la tengo, ok, facciamo la forma di questa qua, ok, le facciamo la golle, affanculo, ma di chi era questa idea, di dipingere un plein air, ok, facciamo tutto quanto, facciamo il busto, facciamo la faccia, la faccia non gliela faccio, nel dettaglio le metto una veletta, e copro tutto, tanto è pure cessa, andiamo così, andiamo, andiamo, facciamo il cappellino, facciamo l'ombrellino, facciamo le cazzo di ombre sfumate, ogni santa volta, non me ne frega niente della tua opinione, ciao bella, e allora corri di nuovo in città, tenendo il quadro davanti, così il vento l'asciuga, mentre corri, arrivi a casa del committente, bussi a casa del committente, il committente non c'è, butti giù la porta, e corri a casa del committente, il maggior domo ti si attacca addosso, ma tu prendi il cavalletto, e lo ammazzi, lasci la casa, corri per una rampa di scale, per due rampe di scale, per tre rampe di scale, alla quarta ti fermi e dici, ma cosa cazzo è grande, sta casa, e allora continui una quinta rampa di scale, una scala a pioli, ma dove abita questo qua, e allora sali per la scala a pioli, tenendo il quadro tra i denti, trovi il committente e fai, ti piace? Bello eh? Come si chiama? Passeggiata sul prato, la sa, la sa, te l'ho detto, ci mettevo, meno, di mezz'ora, ma pensate che l'arte, si sia fermata qui? No, ecco, la vera rivoluzione degli impressionisti, ecco, il grande cambiamento, il movimento della tela, sul pennello, movimento del pennello sulla tela, come cazzo lo dipingo? Tengono fermi il pennello, muovono la tela di conseguenza, no, è il movimento del pennello sulla tela, quello diventa forma d'arte, le arti successive basano il loro stile proprio su quello, Van Gogh, lo conoscete Van Gogh? Sappiamo tutti chi è Van Gogh? lo sapete chi è Van Gogh? Per favore, ditemi che sapete chi è Van Gogh, perché sennò, fuori dal locale, cioè, per carità di Dio. Ok, Van Gogh, Van Gogh, ve lo ricordate tutti, questo tratto, questa pennellata vigorosa, piena di colore, che praticamente esce fuori dal quadro, l'abbiamo visto tutti, riconosciamo il marchio di Van Gogh, un uomo il quale, con la sua follia, con la sua rabbia, con la sua violenza, ha comunicato la meraviglia del mondo, Van Gogh, ebbene Van Gogh, grazie a questo suo stile, è passato al mondo intero, alla storia, come il padre, il maestro del movimento culturale, che voi conoscete, col nome di Metal. Più colore! Voglio più colore! Voglio che esca da questa cazzo di tela! Tridimensionale! Prendi brutta troia! Cosa sono? Girasoli! Teneri e colorati girasoli! Mi piacciono perché sono delicati! Spuntino? E quindi, l'arte che verrà in seguito a questa grande rivoluzione, sarà l'arte contemporanea. Un'arte che manderà lo stesso messaggio, che vorrà dire la stessa cosa in mille modi diversi per dirla. L'arte contemporanea è un'arte che non fa uso più di pennelli, di tele, ma di installazioni. L'arte contemporanea è un'arte in cui non ci sono più forme definite e complicatissime, ma forme elementari geometriche. L'arte che non è più quello che è rappresentato nel quadro, ma il significato che si nasconde alle spalle. E qual è il significato che si nasconde alle spalle dell'arte contemporanea? Un'immensa rottura di cazzo, è sempre quello. Gli artisti si sono rotti il cazzo di dover studiare la storia dell'arte e allora che fanno? Prendono la spazzatura, la mettono nei musei e diventa arte. E allora tutte le persone entrano in questo museo di arte contemporanea, guardano l'arte e dicono affanculo, io non ci capisco niente. E da qui nacquero modi diversi, sempre più originali per lanciare il messaggio fanculo. Pablo Picasso ha detto fanculo le forme definite, io vi metto contorni astratti. De Chirico ha detto fanculo ai personaggi con dei volti, i suoi protagonisti sono manichini. Dalì, Dalì Babà, Dalì, lui il quale ha detto fanculo alla ragione e nel DNA ci ha messo le farfalle. Eiffel, l'inventore della grande torre francese, Eiffel ha detto fanculo all'architettura e adesso il simbolo nazionale della Francia è una pila di merda oblunga e ferrosa. No, ovviamente no, la torre Eiffel è bellissima, non si può insultare la torre Eiffel, assolutamente. E c'è un profondo significato alle spalle. I tecnici dell'Expo l'hanno vista e hanno detto ah fanculo io non la smonto. E quindi è nata l'arte contemporanea. Benvenuti nell'epoca dell'arte contemporanea. Una corrente artistica che le raduna tutte per lanciarvi lo stesso messaggio e cioè il vaffanculismo. E quindi io questa sera un piccolo artista con un piccolo pubblico su un piccolo palco vi dico vaffanculo a voi. grazie 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 a voi degli applausi grazie a voi in fondo della poca attenzione grazie vi adoro vi adoro tutti ma adesso non è il momento di sprecare le mani a continuare ad applaudire perché sto per presentarvi il secondo comico della serata. Se io ho risollevato i vostri animi con un po' di arte lui abbasserà la vostra situazione sentimentale in maniera vertiginosa signori e signori tutte e due signori perché probabilmente è gay e vuole provarci solo con i maschi signori e signore ecco a voi l'uomo che non dovete mai portare a spasso con il vostro cane l'uomo palo colui il quale ha più ore di sonno di Tutankamon Fabio Morga wow siete mentati l'altro giorno un ciclista mi ha quasi investito io ero lì che mi stavo attraversando la strada quando sento in lontananza quasi dolcemente levati di torno coglione beh un po' mi ha ferito fortunatamente sono sopravvissuto ci vuole ben altro che un ebete su due ruote per rovinarmi la serata anzi sapete che vi dico spero che quell'idiota finocchio del cazzo finisca sotto un autobus magari mentre si sta ascoltando il suo ipod con la musica Weep New Age che vanno ora su una di quelle biciclette monocromatiche con le ruote nere avete presente? comunque tutto questo mi ha fatto luce su una cosa ho paura della morte mi dà abbastanza fastidio oh non frantiendetemi ci sono tanti buoni motivi per cui dovrei morire basta che andate a parlare con una delle mie ex e sono sicuro che li troverà tutti lei ne sono sicuro comunque dicevo ho paura della morte non perché tema l'inferno pieno di quei tizi col forcone simile a filottete ma avete idea di quanto può essere doloroso morire? cazzo già quando cadi dal monopattino mi sembrava che fosse la fine ero diventato tipo uno di quei soldati dello sbarco in Normandia ora davvero potete credere che una persona come me possa scegliere di morire in maniera poco dolorosa? ad esempio se tu come ti chiami? eh? Lucia? ok mettiamo a caso che io e te fossimo in guerra assieme siamo dalla stessa parte hai la foto porti nel portafoglio la foto di qualcuno a cui tieni in particolar modo? no? ok se la portassi di chi sarebbe? un po' più istintiva? di tua sorella? di tua sorella? ok allora io e te siamo sul fronte e siamo in un gran casino granate che esplodono da un lato pioggia di proiettili dall'altro e sai che farei io Lucia per uscire da quel casino? ti prenderei e ti userei come scudo umano correndo in mezzo al campo facendoti beccare tutti i proiettili poi raggiunta la zona sicura io quello che rimane di te probabilmente mi prenderebbe e mi chiederebbe di tornare in quell'inferno per trovare la foto di sua sorella e io la guarderei negli occhi e le direi no non è che sto chiedendo molto è solo che mi piacerebbe che la morte si potesse prenotare immaginiamoci se avesse uno studio pubblico come se lavorasse qua dietro al policlinico salve ho telefonato ieri per la morte in dolore sì sono in sala d'attesa da tre ore no non sono il signor Bernardoni ma ho inviato una mail sì sull'indirizzo sì devo morire urgentemente buone ragioni se va a parlare con una delle mie ex sono sicuro gliene potrà fornire di valide beh e come posso fare? quant'è che dovrei aspettare due mesi? madonna che palle vabbè mi troverò qualcosa da fare io non ho mai capito perché se una persona vuole morire non gli viene concesso se un individuo consciamente vuole togliersi la vita perché negarglielo? non è come da bambini che andavamo dai nostri genitori per avere un pacchetto delle figurine panini e non appena ce lo dava gli rompevamo le palle per non avere un altro una richiesta e via ma provate ad andare dai vostri amici o a dire una cosa del genere in giro panico scoprireste i meriti sconosciuti che improvvisamente ci tengono a voi tutto questo alla base non è male il problema è che poi queste persone parlano Fabio Fabio la vita è un dono non lo puoi sprecare così vivitela goditela ama tutto sai ti dovrei sparare in quella bocca del cazzo oh non fraintendetemi eh sono molto contento che i miei amici mi siano vicini in questi momenti sono sicuro che potrei far sentire in colpa chiunque anche quello che mi stava per mettere sotto l'altro giorno con la bici e magari io ci godrei nel farlo sentire in colpa magari lo rintraccio magari scopro la sua fidanzata me la scopo e insieme potremo progettare un piano per distruggerlo per crearne una sorta di complesso nei confronti della famiglia della società della casa degli zii sì ci vorrà un po' ma un paio di cose che mi hanno sempre creato problemi primo la sopravvivenza della razza umana che due coglioni pensiamoci bene sulla terra stiamo aumentando il sovrappopolamento mondiale è un problema reale ora se permettessimo a chi vuole di uccidersi non staremmo tutti un po' più larghi ad esempio facciamo tutto il possibile per non far crepare i vecchi un nonno un parente lontano chiunque ma se uno di quei simpatici nonnini ormai è stesso su un letto che sbava come una lumaca defeca come un cavallo e ha quella puzza da decomposizione perché non farlo morire sapete se se toccasse a me che cosa gli farei fare li porterì in discoteca sì tutta la notte coca party e la prima striscia sul culo di una bella mignotta rimorchiata sulla tangenziale boom morti ma con il sorriso secondo l'istinto di autoconservazione ora l'altro giorno la mia situazione dopo che il ciclista mi stava per investire stava peggiorando quindi guardo il primo palazzo e decido di buttarmi di sotto arrivo sul cornicione solo che poi cazzo vatti a ricordare che soffro di vertigini quindi sto lì per un po' solo che poi i maschi lo sapranno si forma la fila dietro oh e non mettermi fretta dammi il tempo di concentrarmi che cazzo porca troia immaginatevi se lo stato concedesse il diritto al suicidio firmate la vostra liberatoria vi stendono su un lettino vi portano in una stanza dove vi aspetta un escort o se preferite un gigolo e vi fate l'ultima bella scopata della vostra vita vabbè l'ultima questo però potrebbe portare a delle complicazioni perché sapete dopo che scopi sì sigaretta coccole un caffè non hai tanta voglia di morire in quel caso dovresti firmare una seconda liberatoria dove dichiari di non voler più morire in quel caso credo che ne approfitterei sì diventerei tipo cliente fisso di nuovo qui Fabio è la terza volta questa settimana beh sai non riuscivo a fare le parole crociate tutti quegli spazi bianchi altri invece potrebbero preferire continuare la terapia in quel caso a letto canzone di Bob Dylan e siringa piena di siero mortale tutti i tuoi averi andrebbero allo Stato alle fondazioni humanitarie e alla Caritas in modo tale che la collettività possa giovarne ed è qui che entra in gioco la mia idea Scarlett Johansson immagino conosciate più o meno tutti Scarlett Johansson per questa battuta io non potrei andare a vedere con la mia ragazza Ghost in the Shell Scarlett Johansson che ti ci faresti una sega con quei capelli non io ma se c'è qualche feticista in sala bravo abbassa lo sguardo abbassa ecco immaginiamoci che questa donna abbia il recondito desiderio di morire sapete io che farei? la contenterei la facciamo morire la facciamo lavare imbalsamare la facciamo pulire da dentro e la mettiamo in un locale a disposizione di tutti i tipi di clienti sempre aperto 24 ore al giorno biglietto base 5 euro ridotto per i bambini 2 euro e facciamo anche tariffe familiari ora lo so che cosa state pensando o più o meno cosa state cosa vi balena in mente che è sbagliato che la donna non deve essere usata come un oggetto e quant'altro e avete ragione ma se vi mettessi assieme Chris Evans con tanto di rigor mortis no? nessuno? bene ora mi dovete scusare sono una persona orribile e dio mio se so di esserlo è solo che vi ho mentito non è vero che l'altro giorno sono uscito stavo a casa a guardarmi un film volevo uscire vi giuro che volevo uscire è solo che avevo l'ipod scarico e mi avevano appena fottuto la bicicletta nuova grazie Domenico Indiveri Fabio Morga allora gente questo era Mordace voi che siete i soliti fedeli mi piace la vostra reazione voi che siete lì in fondo a festeggiare compleanni non avete sentito cazzo e non vi siete goduti neanche un momento di risate peccato per voi ma che possiamo farci la domanda è ci sono stati momenti di risate allora veramente ci sono stati momenti di risate non ci interessano siamo qui per fare il vostro piacere siamo qui per fare il nostro detto questo informazioni di base quelli che di voi nuovi hanno sentito tutto questo e gli è piaciuto seguiteci sulle nostre pagine facebook Fabio Morga Domenico Indiveri cercateci aggiungete l'amicizia e noi vi diremo quando sarà il prossimo Mordace noi ci vediamo il 30 maggio con monologhi completamente nuovi iscritti di nuovo pugno tutti dedicati a voi o donne meravigliose creature scese dal cielo e speriamo di essere stati di compagnia e soprattutto apprezzati Fabio Morga grazie